Siccome ci avviciniamo a Natale, adesso noi vi salutiamo e andiamo a mangiare panettoni, faremo pranzi, cene, faremo obeso. Esatto, esatto, questo è l'obiettivo. Allora però lo facciamo in un momento di raccoglimento, in questo finale di fluidi di testa, quindi lo vogliamo fare per rendere grazie a Dio. Come solo noi sappiamo fare. Esatto, secondo la tradizione. Rimanendo fedeli a quel rito che ci accompagna da anni. Che da Roma, anzi no, che dico? Da Gerusalemme in poi. Dalla Galilea si è diffuso poi in tutto il mondo. Che sia con voi, che sia con voi. Grazie, grazie, grazie. Kirill Hanson. Chi è Nelson? Piquet e Ackerson. Nella sua Mason. Marilyn Manson. Piquet e Ackerson. Piquet e Ackerson. Piquet e Ackerson. Piquet e Ackerson.